Ciao a tutte ragazze e benvenuti in un nuovo video mmm basta allora in questo video sono tornata vi devo annunciare tantissime cose, mi siete mancati tipo alla follia boh non lo so, quello che volete voi allora, che bello registrare i video è veramente una cosa bellissima, vi ringrazio in botto per gli iscritti, sto organizzando un incontro a Milano, quindi scrivetemi qua sotto nei commenti, a me ne me ne frega un cavolo se ho mille iscritti o quel che l'è e dico perché una ragazza mi ha detto no guarda che scrivete sotto nei commenti e quando hai quando hai cosa vabbè, quando hai un iscritto devi dirlo, perché almeno non gli rispondono allora, vi ringrazio appunto per gli iscritti sto organizzando un incontro a Milano in piazza del Duomo, quindi scrivetemi qua sotto nei commenti se siete di Milano o di Roma, se riuscite a venire a Milano all'incontro, io vi dico poi il giorno perché è iniziata la scuola anch'io cogliona perché non l'ho detto prima ma no, perché tanto se non ero incoglionita di mente quindi commenti proprio fanno schifo ovviamente quelli che sono belli ovviamente vi ringrazio in botta il telefono che mi sta dicendo cagami vi ringrazio tantissimo quindi appunto ditemi se qua sotto nei commenti ehm vabbè avete capito devo fare una cosa veramente faiga sì no aspetta allora devo fare veramente una cosa faiga a Francesco che è un iscritto che saluto anche da qua che appunto ha il mio numero Francesco sei in diretta in un video quindi saluta il popolo di youtube dopo fai l'audio perché almeno li saluti e vabbè comunque lui è un mio iscritto e mi ha scritto mi ha scritto tipo una settimana fa diciamo si lo so dove le varmi i capelli raga non guardateli ehm è appunto il mio iscritto e io lo saluto comunque l'ho già salutato madonna sto scredando poi cosa vi devo dire appunto del telefono nuovo che poi i messaggi li cagherò cagherò li cagherò poi allora mio popolino mi ha ricordato il telefono nuovo vi ricordate che ho avuto l'LG l'iPhone 3DS di 50 anni fa che aveva boh non lo so chi ce l'aveva ehm comunque mi ha preso il Samsung Galaxy J5 che non so dirvi quando è uscito però due annetti fa tre annetti fa e funziona benissimo io lo amo scusate se ho stoppato ma il video non so che cacchio allora come immagini nel profilo ho questa qui con la mia unghia lunga 3 km perché adesso ovviamente l'unghia le unghie l'unghia devono essere corte perché appunto faccio estetista e qua appunto c'è tutto la home page c'è la schermata di sblocco e ho tutte le cose Instagram Whatsapp Messenger Facebook Snapchat Youtube che non ho il canale questo qui perché non l'ho messo mi sono scordata sinceramente scusatemi qua ho fatto una cartella con la galleria la fotocamera e qua ci sono altre cosucce non ho ancora finito di mettere dentro cioè non ho ancora finito di riempirlo perché devo prendere lo schermo la protezione in vetro sopra e più giga perché ho no più memoria volevo dire vabbè sì perché ho 8 gigawatt io ne volevo ne volevo ne volevo 16 comunque allora cosa vi posso dire tornerò spero con il video del borsone che mi avete chiesto quando l'avevo detto tipo non mi ricordo più ritornerò ritornerò basta ritornerò appunto col video del borsone perché comunque ve l'ho promesso vi ho promesso un botto di cose ma dovete capirmi che non avevo ancora in mente veramente cos'era il canale cioè non avevo proprio in mente cosa voleva dire cosa voleva dire sì cosa voleva dire avere un canale youtube quindi ogni cosa che deve dire quindi io dicevo cazzate e le sparava cazzo lo sapete anche voi e poi non facevo un cavolo quindi io voglio recuperare il tempo perso e farvi più video anche perché cioè siamo una comunità di amicizia quindi sembra che a me me ne sia cioè me ne me ne stia aspettate devo collegare un attimo perché me ne sto fregando di youtube ma non è così perché appunto ho avuto problemi in famiglia siamo solamente io e mio fratello e mia mamma non so qua raccontarvi tutto perché comunque è privacy sì faccio video in bagno se avete qualche problema non me ne frega basta che non mi faccia vedere il dentro del cesso magari con la merda però in casa mia almeno questo non succede poi non lo so a casa vostra e comunque vabbè io lo sapete l'avevo già detto faccio video qua perché la luce è migliore rispetto in camera mia e farmi in sala no perché ci sono comunque mia mamma e mio fratello quindi non capite direte un cazzo perché in sala comunque io non ci sto quasi mai e comunque mi sono fatta la permanente ai capelli ricci solo che appunto li devo lavare adesso li lavo quindi non so ne che ore sono beh le 7 30 40 me ne lavo nel lavandino e basta poi vi volevo dire tanti di voi e anche il mio iscritto che devo salutare ciao Francesco sei in diretta gli avevo fatto l'audio sì Francesco ho rifatto il video perché avevo fatto ero tipo caduta ma vabbè comunque sei in diretta sul mio nuovo video che non so neanche come chiamare raga perché non so come chiamarlo sto video lo chiamerò cazzeggio parliamo un po' cosa mi è successo sono arrivata non lo so eccomi sì dai eccomi va bene dai e comunque ritornerò con nuovi video ve lo prometto appunto c'è questo che mi ha scritto qua che mi ha scritto tipo una settimana fa e mi ha detto che sono cambiata un botto rispetto a le altre volte che facevo video grazie e ebbè sono sta felice per questa cosa sembra che ho qua il ciuffo bianco ma non è così proprio bene poi appunto del teatro non vi ho già detto la cover è trasparente e con tutti i sbrillucci perché senza cover è veramente strafine cioè io ho paura di farlo cadere in ogni momento a parte che mi è già caduto però meno male è caduto sul morbido quindi sto cazzo di trucco a me se n'è andato poi cosa vi devo dire del trucco sì certo tornerò anche sul trucco perché ovviamente il mio canale l'ho aperto per quello niente un'altra cosa io non ve l'ho detto ho paura che a dirvi questa cosa mi venite a prendere a casa no vabbè se via comunque come cosa io un anno fa ho iniziato a fumare ad agosto di quest'anno ho fatto un anno che fumo e questa cosa è successa appunto perché famiglia e quindi io mi sono data al fumo ma quando dico questa parola è solo sigarette perché io altro non no altro no per niente quindi io spero che mi volete bene anche per i miei difetti ovviamente anche per i miei pregi però spero che non vi dia problemi anche perché non è che fumo qua davanti a voi cioè in casa io non fumo cioè mia mamma mi fucile se mi vede fumare in casa e quindi io fumo sul balcone tranquillamente non che non vi vengono in mente cose cretine da dire no ti sento secando tuo fratello brutta che ne so brutta 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 crescita di tuo fratello che si vede lui lo sa che comunque non cioè lo sa oddio c'ha 5 anni cioè sa che comunque le cose ci sono determinate cose che non deve dire che non deve fare ovviamente non è che gli abbia detto a 5 anni non fumare cioè no quello no perché anche da piccolino dicevo no no io non fumo poi a 14 anni ho iniziato a fumare anzi no a 14 anni perché io ho ancora a 14 anni devo fare i 15 e appunto mi sono sentita giù quindi non fate come me ve lo prego cioè ve lo prego vi prego perché il fumo non serve a niente è solamente un brutto vizio io sto cercando di smettere in tutti i modi ma comunque dopo un anno che fumavo anche non lo so quante ne fumavo al giorno è difficile è difficile sto parlando come scossione adulta ma non è così perché io sono ancora in tempo per smettere e fino a un'ora o due ore fa ho fumato la mia seconda sigaretta quindi direi a posto però comunque non prendetela come scusa e non prendetela soprattutto perché è stata male e dovete fumare una sigaretta come ho fatto io perché è stato veramente un grande sbaglio dopo questa cosa sinceramente non ho più niente da dirvi io tornerò appunto con nuovi video nuove cose da dirvi nuove non lo so nuovi video nuove challenge tutto di più tutto 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 scrivetemi anche qua sotto nei commenti oltre a se siete di Milano no ma scrivetemi qua sotto nei commenti che video volete che faccia tutorial trucco non lo so quello che volete in questo momento non ho il fondo tinta e io ve lo dico e quindi dopo questo io chiudo e ci vediamo appunto se riesco domani no forse domani no non lo so comunque domenica anche non lo so con un altro video che sarà il video del borsone perché forse non lo so perché devo andarlo a prendere a scuola quindi non so se domani lo prendo però mi sa proprio di no quindi no domani il borsone non lo prendo devo prendere solamente due cose perché ho i compiti però non lo prendo il borsone e quindi spero che questo video vi abbia tenuto compagnia aspettatevi un video enorme di no vabbè non un'ora però farò due parti o tre e aspettatevi appunto una nuova Asia perché io sono cambiata tantissimo e vabbè l'ultimo video l'ho fatto tipo una settimana fa due settimane fa tre settimane fa quante settimane fa non lo so però in queste settimane sono veramente cambiata quindi poi se vuoi vi spiego e niente io vi saluto vi mando un grosso bacio ciao a tutte grazie ancora per gli iscritti continuate a mettere mi piace e iscrivervi al canale se volete e se vi sono simpatica niente io vi saluto ciao alla prossima ciao a tutti ciao a tutti